Sai qual è il tuo problema? Sei troppo sentimentale. È umano avere dei sentimenti. A volte ti può salvare anche la vita. Vuoi sapere una cosa? Non c'è il dispositivo di sicurezza. Oggi ogni appassione! 30 secondi alla distruzione totale. Beh... ...dallo a me. 25 secondi! Avanti. Dammelo. Togli le mani di sotto. 20 secondi. Adesso va a tenere di corsa. Tienti sempre sulla destra. Non vado da sola. 15 secondi. Io ti seguo, va. 10 secondi. 10 secondi. 5 secondi. Ok, voglio. 10 secondi. 5 secondi. 11 secondi. 10 secondi. 10 secondi. Presto, presto! Grazie. Sei un Dio giusto. Grazie. Figlia di puttana! Come ti senti? Meglio. Come ti senti? Figlia di puttana! 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 Flow, hold your show sound pretty! Your violins keep moving to the nitty-gritty! When you hear the scratch-up guitar scratching! Then you know that rhythm carries all the action! Oh, yeah! Oh, yeah!